Sì, eravamo svegliati durante la settimana, sapevamo come lavorava Percunio, siamo stati bravissimi a contenerli, a fare la partita, a fare i gol, a mio avviso, potevamo anche la doppiata, sapendo che poi di fronte è una squadra che sta facendo molto bene, una squadra che sa cosa fare, ma non questo lo sapevamo. E mentre nel secondo tempo penso che sia stata un aspetto tecnico-tattico da grande battaglia, anche qualità di giochi in certe situazioni, penso che oggi la gente si sia divertita e più a tempo perché ha visto una partita molto tecnica, molto tattica, però si è battagliato tantissimo, ma era una partita da fare da entrambe le squadre, anche se ho provato a guardare in casa mia. E' visto che la mia squadra ha lavorato benissimo nelle due fasi, più o meno un po' bene in 11 contro 11, e con un periodo di Damonegan 4-4-1 in fase di 1-6, e 4-2-3 in fase di 1-6. E' un successo, e tranne la parata di Pec, con lice finale, Lecconi comunque, aveva alzato il baricimento, non c'era una intenzione. Mister, è stata comunque una vittoria sofferta, è il merito del funeo o c'è ancora molto da lavorare per quanto riguarda anche la sua squadra? Ma ogni vittoria è sofferta, in questo campionato partite facili non ce ne sono, l'ho sempre detto, ho sempre detto ai miei giocatori di calarsi nella mentalità, perché la Lega Pro la Serie C è un campionato proprio, è un campionato completamente diverso da altri campionati. E' stata una partita sofferta per 38 minuti, no, anzi per 45 minuti, secondo tempo abbiamo sofferto, ma voi loro ci hanno impensati, è stato solo sull'azione finale, e il colpo di testa è mancato, ma è normale che comunque giocare tantissimi minuti con qualcosa deve concedere l'avversario, anche se noi dobbiamo essere più down il ripartire, perché in certe situazioni potremmo ripartire e potremmo ripartire bene, l'abbiamo fatto negli ultimi 100 minuti finali, io penso se l'avessimo fatto un pochino prima, potremmo sicuramente fare qualcosa di meno. Queste due vittorie per noi sono due vittorie importanti, dove bisogna lavorare tanto anche nelle vittorie, perché ci sono due errori, noi sappiamo dove intervenire, dove lavorare, dove migliorare, perché sappiamo benissimo che le partite facili non ce ne sono. Mister, un'ultima battuta l'abbiamo vista molto nervosa, soprattutto nel secondo tempo, un giudizio sull'arbitraggio e sulla scelta di espellare il vostro giocatore? Ma io non sono abituato a parlare degli arbitri, come valutano il lavoro degli allenatori, dei giocatori, io penso che se oggi c'era un osservatore, sicuramente per le valutazioni nella partita dell'arbitro, e lui se l'arbitro ha fatto bene, ha fatto male, è normale che era un pochino non nervoso. Cercavo di far farvi vedere ai giocatori in una situazione tattica, non avendo voce. Non è facile restare calmi in panchina, perché comunque le tensioni ci sono, la terra in cui l'occasione è stata brava, perché comunque ci ha concesso anche di andare oltre, l'ha gestita bene, e questo deve essere, perché i allenatori vediamo durante la settimana con tante tensioni, perché non c'è da allenare solo la squadra, c'è da allenare la società, soprattutto a Pisa, ma per me che allenano a Pisa è una più di grande soddisfazione per allenare tutte queste componenti. Grazie.